Arriva Giuliano una mostra importante, una mostra dal nome importante, quella di Gasparino Mutolo, dal titolo La rinascita dell'arte. Sì, è una mostra molto particolare perché è una mostra che innanzitutto più che un valore prettamente estetico, ha un valore soprattutto morale nei confronti dell'antimafia, di un messaggio che vuole arrivare appunto soprattutto alla società civile, come nell'arte, nella pratica dell'arte, possa nascere una riflessione su se stessi e un recupero della propria persona nella società civile appunto, nella contemporaneità. Gasparino Mutolo oggi a Giulianova per la prima volta in Abruzzo e bisogna ringraziare la Respirart Gallery e i musicivici che io rappresento che ospitano questo pezzo importante di lotta alla mafia. L'arte, come anche il paesaggio italiano, a volte è come uno specchio per esaminare a fondo se stessi. Nessun paese come l'Italia, il nostro ambiente è così importante proprio per essere reinseriti nella società attraverso la cultura. E' importante per la testimonianza di cui è portatrice questa mostra. Da uomo di mafia, da uomo di malaffare, da uomo di cosa nostra, Gasparino Mutolo si pente negli anni 90 con un incontro con il giudice Falcone, poi entra in contatto con Paolo Borsellino e da quel momento comincia il suo percorso creativo che appunto segna emblematicamente la rinascita nella sua nuova vita di pentito, di uomo libero e di artista e pittore.